Ciao ragazzi, quello che vedete qui è qualcosa di diverso, è un video promozionale di quello che stiamo portando in live su Twitch da ormai circa un mesetto, più o meno. Sì, è Football Manager perché dopo varie peripezie ormai ho diciamo riacquistato il piacere intrinseco di giocare a questo titolo e perché, male non fa, ricordare a tutti quanti di voi siete qua su YouTube che se volete più contenuti di Football Manager, uno chiaramente basta mettere un bel like a questo video, i like alla serie sul ai confini del mondo con la squadra delle isole Faroeir che porterò esclusivamente qui su YouTube e venirmi a seguire anche su Twitch, link in descrizione, vado in live molto randomicamente, però vado in live quindi seguitemi, la potete fare abbonamenti come qua su YouTube, contatto eccetera, però dobbiamo parlare del Brescia. Questa è la schermata con la quale io ho terminato l'ultima live prima di questa registrazione. Se vedete in alta destra siamo al 2 gennaio 2027 e se vedete in alta sinistra il Brescia è attualmente tredicesimo nella massima divisione italiana. Siamo in serie A ragazzi, ma è stato un percorso molto lungo e mi piacerebbe se farvi diciamo un recap di quello che è successo anno per anno. Quindi quello che vedrete in questo episodio è il primo anno al Brescia perché probabilmente il più importante racchiude tutto l'odio e tutto l'amore ci opera questo titolo. Parto ovviamente da quello che è più bello e interessante diciamo di una carriera di football manager l'inizio è il mercato trasferimenti. Quindi qua vedete la storia dei trasferimenti della stagione 2023-2024, l'anno di inizio del nostro allenatore manager che è l'alias del mio nome e cognome qui a Brescia. È stato un anno molto movimentato. Come vedete abbiamo addirittura portato 4 milioni e otto in entrata e 4 milioni e uno in uscita, no, 4 milioni, scusatemi, 4 milioni e uno di spese è al contrario e 4 milioni e otto di guadagni dalle cessioni. Ora, voi tifosi del Brescia, qualcuno di voi mi segue in live un po' si metterà le mani nei capelli, per alcune cessioni soprattutto quella di Andrea Papetti, però vedete bene che sono arrivate delle offerte importanti, molto importanti. Partiamo intanto da appunto le cessioni. L'abbiamo dato via alcuni prestiti dei costi zero, Bertagnoli a San Gallen e Nuoamà in prestito, buonazza a costo zero, Adorni alla PA 220 mila euro, assolutamente non utilizzato da me quindi via. Andrea Cistana, altro titolare del Brescia di oggi, venduto a Lorient per 700 mila euro, idem ricando Fogliata, 800 mila al Cagliari, che all'epoca mi sembra fosse ancora in Serie A, però l'abbiamo ceduto, ma appunto la cessione più importante è quella di Andrea Papetti, è una di quelle offerte che non puoi rifiutare, arrivavano direttamente dall'Inghilterra. Crystal Palace, che se non ricordo male all'epoca, o era in Championship, o era in Premier League, Savasandir, era in Inghilterra, quindi la cessione è stata quasi obbligatoria, ma abbiamo dicemolato 23 milioni e mezzo praticamente. D'altra parte però mi sono mosso sul mercato, non sono rimasto a guardare. Per quanto riguarda il mercato estivo, abbiamo preso Cass Odental dal Como, che tra l'altro il ragazzo ci seguo ancora adesso nel 2027 in Serie A, come sostituto di Papetti, diretto sostituto, 2 milioni, 1 milione e 8, 2 milioni prese dal Como. Abbiamo preso Jasper Samoja dal Lecce, per 300 mila euro come terzo allenato portiere, portiere per il futuro, ho buttato là dei soldi che mi avanzavano, Biarchi Biarkason, altro elemento che ci continuerà a seguire nel corso di questa avventura, dal Venezia per 425 mila euro, un prestito di Hans Nicolussi Caviglia, preso all'ultimissimo, e un acquisto molto oneroso, Luca Zanimacchia dalla Cremonese per 1 milione e 6, investito tanto sul ragazzo, e a gennaio abbiamo fatto due prestiti in entrata, Kalai da Fosinone e Yves Dabila da Paris FC, presi in prestito in difesa perché avevamo delle difficoltà. Difficoltà che ora è proprio il fruco di questo video, ragazzi. Difficoltà che è un occhio allenato di Football Manager non scappano molto velocemente. L'inizio del campionato è stato ottimo, due vittorie con Ternana e Cosenza, una sconfitta di misura col Como in trasferta, un'altra con lo Spezia, anche questa di misura in casa, vittoria con Catanzaro, pareggio col Modena e vittoria larga, 4 a 1 con la Sampdoria. Fino a qui, ragazzi, tutto bello, alti e bassi pronosticati a metà classifica della Serie B. Stiamo facendo un buon cammino per essere all'inizio. Poi è successo il disastro. Ovvero, dalla partita con la Sampdoria, notate che ci sono o sconfitte o pareggi per un solo gol di scarto. Io sono arrivato, ragazzi, probabilmente alla partita col Parma, il 2-3 col Parma, a disinstallare il gioco. Ho rage quittato in maniera così forte che l'ho fatto in live. Ho fatto vedere in live, io che uscivo dal gioco, io che salvavo, uscivo dal gioco, neanche facevo alt F4, uscivo dal gioco e disinstallavo. Perché tutte queste sconfitte che vedete qui e pareggi non è che avvenivano casualmente o dici cavoli, azioni di qua e di là. No, no, il lecco ha fatto un tiro in porta. L'Ascoli 2, la Ciregiana 1, 2, scusatemi, Idemi, Parma, alla peggio 3. Erano tutte sconfitte scientifiche, erano tutte sconfitte da FM. Quando si è stato FMato, no, si dice, la partita che domini, quello fa un tiro in porta e fa gol e vincione a zero. Quello non proprio così, non avevamo dominato la partita, avevamo tirato un po' di view ed eravamo sempre stati puniti in maniera incredibile. Ma proprio incredibile ragazzi. Cioè cosa... Io sono esploso. Da lì ho fatto quel video che vedete sul canale, consigli per vecchi giocatori di football manager, perché effettivamente mi sono intestatito, incredulo di quello che era successo, ho studiato un po' più a fondo il gioco, da chi l'aveva studiato prima di me, ho preso qualche consiglio e ho switchato, non chiedetemelo, non chiedetemelo, ho switchato da questa partita in là il motore grafico da 3D a 2D. Va detto una cosa, al netto del tempo che è passato, quindi col senno di poi, probabilmente non ho accettato un cacchio, probabilmente non ho accettato veramente niente. Era solo l'avere la pazienza di lasciare che quello che avevo fatto, ricerca spasmodica dello staff, allenamento studiato a puntino, poi rivisto con uno scaricato dal workshop, tattiche rifinite eccetera eccetera, sedimentasse e crescesse. Però ho lasciato 2D per scaramanzia, ho iniziato a vincerle, non dico tutte, ma quasi. Siamo arrivati alla stagione, alla finale di stagione, se non ricordo male, in tredicesima posizione, vado a vedere immediatamente, perché non ricordo esattamente dove eravamo finiti, dove siamo finiti il primo anno. Vediamo 2021, 22, 23, 24, tredicesima posizione, quindi come pronosticato dai media, come pronosticato dai media, con una risoluzione in più dentro di me. Mi sono detto, no, io non mollo tutto così, io provo ad andare avanti. L'obiettivo di questa serie che ho portato, che sto portando in live, era quello di portare, riportare il Brescia in Serie A, perché ci sono alcune realtà del nostro calcio che mi dispiace veramente tanto non vedere più nel massimo campionato. Il Brescia, il Parma, vabbè la Sampdoria è appena scesa, se non sale subito anche loro, mi spiace molto. Vorrei che tornassero a essere le potenze calcistiche, quelle di una volta, che potevano ambire a restare in Serie A e comunque a giocarsi delle partite importanti, e quindi non ho mollato tutto. Dopo il Rage Quit c'è stato lo switch mentale e anche di un certo tipo di gioco che ho iniziato a implementare. la tattica che è rimasta praticamente invariata quasi fin tanto che siamo arrivati in Serie A, spoilerino ma c'è poco da spoilerare. Ho praticamente messo in pratica la forza di volontà di un tempo di quando giocavo a Football Manager con le conoscenze del nuovo e rivisto capitolo di Sports Interactive. E devo dire che nel corso del tempo è andata bene perché noi andiamo a vedere ora il secondo anno al Brescia, il secondo anno in Serie B sempre dalla schermata dei trasferimenti.